SIGLA SIGLA Qui Kerrigan. Abbiamo annientato i Protos, ma c'è un'ondata di Zerghi in avvicinamento. Serve estrazione immediata. Impossibile. Stiamo ripiegando. Cosa? Se abbandonarli così? Al mio segnale tutte le navi abbandonino Tarsonis. Ehi, ragazzi! Ci venite a prendere? Sei pazzo, Arturus. Puoi farlo. L'ho già fatto. Timoniere, avvisa la flotta e portaci fuori dall'orbita. Ora. Mandante? Jim! Che diavolo succede lassù? Cosa? 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 Cosa?